Big L, rest in peace Dopo le scivolate di Misano nella scorsa settimana nel CIV per il quale rimane comunque ancora in corsa per il podio finale Cristiano Migliorati in questo fine settimana è in pista a Imola con la sua Kawasaki per il Mondiale Supersport Al senatore dei piloti bresciani è stata concessa una wild card che lui stesso paragona ad una convocazione in nazionale proprio in virtù di quanto fatto nel campionato italiano Sì, questi buoni risultati nel campionato italiano hanno fatto sì che sia io che la squadra, la team Puccetti Kawasaki insomma si possa partecipare a questa gara così importante tra l'altro che si svolge in Italia una gara di campionato del mondo quindi noi andremo sicuramente a far valere le nostre carte perché siamo sicuri di poter fare bene anche a livello mondiale non solo a livello italiano E intanto non si perde di vista il CIV Sì, terzo in classifica, ha solo le 11 lunghezze dal leader tenendo presente che il vincitore di ogni singola gara prende 25 punti quindi i punteggi sono ancora molto ampi si può fare, noi faremo il massimo per far sì che il suo aglio si avveri